Sì, eccoci, siamo entrati nel famoso pollaio, siamo con padre Cangargan, vicino di casa di madre Teresa, che ha conosciuto naturalmente madre Teresa. Noi siamo qui proprio nel corridoio dove erano... Questo è il corridoio del pollaio, da una parte e dall'altra c'erano i polli che servivano per poter incrementare un po' l'economia, ma non era così bello pulito. Questo faceva parte del complesso di San Gregorio. Questo è il complesso di San Gregorio, appartiene ai monaci dal 1573, quindi sono 500 anni che i monaci camaldolessi sono qui, però poi dopo il 1870 è passato al governo e quindi appartiene adesso al ministro dell'interno, quindi è proprietà dello Stato, però attribuito a camaldolessi vita naturale durante la congregazione camaldolessi, quindi a nostra disposizione. venne madre Teresa, cercava un posto soprattutto per le sue suore, perché per i suoi ricoverati l'abbiamo già occupato. L'abbiamo appena visto, l'abbiamo appena fatto vedere. Ecco, l'abbiamo già occupato da parte dell'ospizio. E diceva madre Teresa, guarda questo è il nostro ambiente, dobbiamo rimodernare un po'. No, 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 non toccate nulla, perché è molto bene che le sue ore siano proprio nel pollaio, ci teneva proprio tantissimo. E così, qui ci sono una cappella adesso sulla destra, c'è una piccola sacristia qui, poi dalla parte sinistra c'è il dormitorio, e per madre Teresa avevano preparato una stanzettina proprio qui accanto al pollaio. Ecco, Gennaro, voi l'avete già vista, l'avete vista nelle immagini, raccontata anche attraverso le parole di Pina, dei vostri ospiti, di padre Sebastiano. Adesso noi ve la facciamo vedere in diretta. Entriamo, padre Innocenzo. Eccoci. Questa è la stanzetta di madre Teresa, di là c'è la professore, e lei quando veniva qui a Roma, non sempre veniva qui, perché c'aveva Tosfiscale, si chiama, perché era stata la prima presenza a Roma di madre Teresa, questa è la seconda presenza. Abbiamo collaborato molto volentieri, perché loro davano certamente, diciamo, il nutrimento del corpo e noi davamo il nutrimento dello spirito, la parola di Dio e la parola del pane. Padre Innocenzo, non sono neanche tre metri per due, è veramente minuscola. Sì, assolutamente, ma lei si sarebbe accontentata anche di meno di questo, si vede da qui dal cancello in là, era lo spazio per lei. Poi qui riceveva le suore, era continuamente in ascolto delle suore, scriveva o ascoltava le suore, è una donna di un'attenzione alle persone straordinaria, veramente straordinaria. Il crucifisso era sopra il letto? Sì, così come lo vedete, le suore non hanno toccato nulla, hanno aggiunto qualche soprammobile qua, ma se no c'era soltanto il letto, la sedia, riceveva la gente qui. A noi sacerdoti ci riceveva lì nella sacristia, lì anche facevamo la colazione quando venivamo a celebrare, era una cosa veramente molto bella. Anche qui consumava le poche ore di sonno perché Madre Teresa dormiva pochissimo. E si era sempre attenta al dormitore delle suore, per cui era sempre o mai pieni. Padre Innocenzo, le notti di Madre Teresa sola con il crucifisso, quel buio, possiamo solo immaginare che cosa hanno vissuto questi muri. Mi invitava a fare dell'elezio divino alle suore, no? E lei era molto contenta, ho commentato l'angelo di Giovanni a Madre Prema, che adesso è la superiore generale. Ma lei però teneva a sottolineare che il libro era il crucifisso, quindi voi dovete imparare dal crucifisso. E voleva che quella scritta Sizio o Sete potesse essere presente in tutte le loro case e si augurava in tutte le parrocchie del mondo. Perché in quel Sizio lei sintetizzava tutto, che era un desiderio di amare e di essere amato. Era il desiderio di Dio, la Sete di Dio. Un desiderio di Gesù, sì, di amare e di essere amato e di essere ritrovato in ogni essere umano, a qualunque nazione o etnia o religione appartenesse. Questa è stata la grande testimonianza di Madre Teresa. Gennaro, vi abbiamo fatto un grande regalo, anzi le missionarie della Carità ci hanno fatto un grande regalo a farci vivere questo momento qui dentro. Vedete che lì c'è una reliquia di Madre Teresa.